Può sembrare incredibile, ma negli ultimi dieci anni sulle strade italiane sono stati uccisi 7.000 pedoni e oltre 200.000 sono rimasti feriti. Molti di loro sono vittime del mancato rispetto delle regole. Ad esempio, il 30% delle vittime vengono investite proprio mentre attraversano sulle strisce. Per guidare, quindi, non accendere solo il motore, ma anche la testa. E ricordati che siamo tutti pedone.